Iveco 35 quintali, 3.000 di cilindrata, 147 cavalli, immatricolato nel 2011, unico proprietario, cassone ribaltabile trilaterale, ruote posteriori gemellate. È ancora in ottime condizioni, ha percorso circa 190.000 km, lo vendiamo tagliandato, preparato, con revisione e garanzia di conformità. Lo potete trovare qui alla Lenticar a Castelletto di Branduzzo in provincia di Pavia. Nel primo commento che trovate a questo video c'è un link, accendendo al quale potete trovare tutte le informazioni necessarie per fare un acquisto consapevole. Grazie per l'attenzione e vi aspettiamo numerosi a Castelletto di Branduzzo alla Lenticar. Ciao! Grazie per la visione!